Allora Mertens va al posto di Gabbiadini al dodicesimo minuto, fischi del pubblico che arrivano a salutare questa sostituzione, probabilmente non è piaciuta la prova di Manolo Gabbiadini al pubblico del San Paolo, al dodicesimo minuto il cambio dunque, Mertens per Gabbiadini, adesso vedremo se sarà proprio il giocatore belga a occupare la posizione di centramarie, finto, oppure... Allora Mertens a posizionarsi tra Monsigny e Kelly Cromer, intanto me ha la sbagliata... La Roma era male, la Roma era male, oh, mira lui! E' un'altra, ma la seconda marcatura, che stai? Tutta, vedto? Oh, la prima verde, eri con me!